Ciao a tutti ragazzi, qui è Ard che vi parla, l'atteraccio nuovamente mantenuto la loro promessa e ci hanno dato un secondo teaser, questo molto molto più concreto. Abbiamo quindi questa immagine con su scritto sopra l'MPD o l'APD in italiano, gli Apoticon, presto tutto questo sparirà ma stanotte, stanotte celebriamo. Qua possiamo vedere ovviamente tutti i primis e tutti gli ultimis celebrare intorno a un falò che assomiglia in maniera molto molto decisiva a quello che era il falò e la foresta di Black Ops 3 nel menu principale e anche dopo la schermata di Endgame, Game Over, quando appunto finita la partita vedevamo tutti questi rami con questa luce blu in mezzo a questa foresta che dovrebbe essere la foresta appunto in Siberia vicino al sito di Tunguska dove è caduto il meteorite di Elemento 115. Quindi possiamo vedere tutte e due le crew celebrare e bere, non so immaginare Nicolai Ultimis quanto berrà, tutti quanti relativamente anche contenti, li vedo che sorridono, probabilmente stanno parlando. Vediamo appunto Nicolai Primis in piedi, far partire tutta la celebrazione, essendo lui a questo punto il capo di tutto quanto. A sinistra attacca a Ultimis, Nicolai Ultimis al centro di davanti sembrerebbe Nicolai Primis e Richtofen Ultimis che parlano, non so immaginare che cosa si stanno raccontando. E a destra i altri personaggi mancanti e a terra i loro fucili ovviamente con cui immagino hanno intenzione di uccidere sicuramente moltissimi zombie e magari provare anche a sparare a Dottor Monty. Per cui questa immagine è qualcosa di decisivo sul fatto che andremo quasi sicuramente a Tunguska o c'è un collegamento a quello che era il Falò in questa foresta, dove appunto anche in realtà i nostri primis hanno incontrato Monty durante il ciclo di Black Ops 3 che vediamo in un filmato, mi pare uno di quelli rilasciati poco prima di Revelations, dove appunto loro si incontrano e lui dice voglio che facciate la cosa giusta, che in quel caso sarebbe aiutarlo in quel ciclo infinito, dove poi li avrebbe rimanati indietro al tempo di templari durante la Grande Guerra nel Medioevo, ma sembrava lui a quel punto il personaggio buono che ci avrebbe aiutato a salvare tutto quanto e eliminare il male nel mondo. Sappiamo che così non è più o quantomeno Monty è una versione buona comunque di una divinità o di un'entità molto molto potente, però pensa solo a se stesso, è molto molto egoista e quindi dovrà sparare i primis in questo ciclo infinito, poveracci praticamente devono fare questa cosa senza fine, mentre ha molto più senso spezzare questo ciclo, fare in modo che nessuna entità o comunque essere molto potente possa decidere le sorti di tutto l'universo, quindi sconfiggere Monty, lo Shadow Man che è ancora nella chiave dell'evocazione, quindi in qualche modo comunque verrà rilasciato o sconfitto e poi molto probabilmente distruggere l'elemento 115 stesso e impedire la stessa creazione degli zombie o comunque impedire che ce ne siano ancora così tanti o all'infinito, dato che noi personalmente avremo ucciso non so quanti zombie comunque canonicamente tutte le mappe in cui siamo stati e ci dovrebbero essere comunque miliardi e miliardi, quindi in qualche modo poter fermare la creazione di nuovi zombie o eliminare tutti quelli che ci sono permetterebbe comunque al mondo di poter tornare a qualcosa di quasi normale, anche se è tutto cauto sotto un'apocalisse e i sopravvissuti sono davvero pochissimi. Questa immagine dà, non so, una sensazione di bellezza e nostalgia assieme, ma la nostalgia di quella che dici è stato tutto bellissimo ma sta per concludersi, quindi se sono in hype per questo finale non vedo l'ora di vedere l'ultima mappa cosa sarà e cosa si inventeranno per i Star Trek Wonder Weapon, come anche rifare la mappa che probabilmente sarà Call of the Dead, un suo remake, quale sarà il vero e proprio finale, quindi a quel punto la nostalgia proprio ci colperà in faccia con uno schiaffone perché avremo concluso la storia per tutte quante le crew che conosciamo da tantissimo tempo, quindi gli ultimi sa partire da World at War e Black Ops 1, i primis comunque già da Black Ops 2, Orgins li abbiamo incontrati e poi sviluppato moltissimi personaggi durante Black Ops 3, in parte ovviamente anche qua con Black Ops 4, spessando il ciclo originale, e in parte vedremo anche i Victis col teaser che abbiamo visto ieri e anche loro hanno fatto un'ottima parte su Black Ops 2, è stato dato anche un loro accenno su Black Ops 4, quindi tutto si concluderà, vedremo magari in futuro un reboot della storia etere, ma penso che non sarà proprio la stessa stessa cosa perché questa è la storia che ha fatto partire zombie, proprio al suo principio ci ha fatto appassionare la modalità, ai personaggi, alla storia e tutto quanto, e tutto sta per concludersi, quindi insieme ai nostri personaggi celebriamo un pochino questo momento prima del grande finale, quindi tutto finirà, ci sarà un grande combattimento, un finale emotivo che ci farà piangere, ci farà magari anche bestimare non so quante volte se avrà senso oppure no, se alcune cose verranno spiegate, ma per adesso soltanto celebriamo questo finale che sta per arrivare, e tutto quello che abbiamo fatto noi come community in tutti questi anni, che sono più di dieci, abbiamo giocato tantissime mappe, fatto record, scoperto easter egg, scoperto easter egg secondari anni e anni dopo, godiamoci questo momento. Io ragazzi mi aspetto come al solito nei commenti le vostre opinioni a riguardo, se siete in hype per questo finale, come vi sembra questa immagine, se vi trasmette felicità o tristezza o tutte e due allo stesso tempo, spero come sempre che il video ci sia piaciuto, e noi ci vediamo al prossimo. Un abbraccio, ala.